Marte è ormai a 9 gradi circa del leone e sta portando parecchi conflitti al mondo degli scorpione con i quali fa una quadratura, cioè un angolo di 90 gradi, e con il toro. Allora, lo scorpione e il toro sono opposti, sono a 180 gradi e il leone e l'acquario tagliano di 90 gradi questi due segni, quindi tutto quello che passa in leone e tutto quello che passa in acquario creano degli angoli che vengono definiti dinamici nei confronti del toro e dello scorpione. Questo è un po' il motivo per cui nel detto popolare l'acquario non va d'accordo con lo scorpione e con il toro e il leone non va d'accordo con lo scorpione e con il toro, però, ripeto, sono detti poporali, poi si trovano esempi in cui così è stato, non so, Hitler era del toro e Mussolini era del leone, non è che sia proprio stato un'amicizia così lunga. Allora, cosa succede? Succede che Marte, attraversando il leone, porta parecchi conflitti, cioè metterà lo scorpione e il toro in contatto con questa energia in modo dinamico, quindi non facile. Solitamente ci si pone di fronte a dei piccoli rituali per andare incontro a questo pianeta, quindi non lo so, lavorare con il colore rosso, per esempio in cromoterapia, è molto indicato con Marte, assumere, assumere alimenti ricchi di ferro, per esempio, altro elemento marziale, confrontarsi con il concetto della guerra, confrontarsi con il concetto della conquista, quindi non lo so, anche approcciare un racconto storico di un grande condottiero. Sono tutti aspetti che a livello razionale, cioè a livello di corteccia non ci dicono nulla, ma in realtà a livello inconscio formano in un certo qual modo una specie di guardrail che ci protegge per non andare troppo a sbattere, perché comunque Marte è Marte. Quello che non si riesce a far capire alle persone è che è difficile, quasi impossibile, interpretare l'intensità dell'evento, cioè io posso ipotizzare che lo Scorpione in questo momento ha Marte contro, quindi è contro Marte, non riuscirà a ottenere delle cose, Marte come pianeta di conquista, parlo di Scorpione ma anche Toro, Scorpione e Toro hanno Marte contro, o sono contro Marte, è più corretto dire in questo modo, e appunto non riusciranno a ottenere delle cose, Marte, parola chiave, conquista, sole, il sole in Toro o il sole in Scorpione rappresenta un progetto, quindi non riesco a ottenere un mio progetto, oppure Marte conflitto, sole uomo, o ci sarà un conflitto con un uomo, non so, magari nel tema natale di una donna col compagno e nel tema natale di un uomo col datore di lavoro, è rilevante. Marte, soprattutto adesso che sta uscendo il caldo, sta arrivando l'estate, può parlare anche di scottature, di bruciature, quindi me la prendo comoda, me la prendo leggera, mi brucio, oppure scottature anche pratiche, è irrilevante. Lucio Dalla è morto, l'infarto, con Marte opposto al sole, cioè un transito che abbiamo tutti, una volta ogni 18 mesi circa, 16 mesi, e Lucio Dalla è morto, l'infarto, quindi poi vabbè, qua magari aprirò delle parentesi, perché la vita e la morte fortunatamente non si possono vedere, sono assolutamente criptate dal linguaggio astrologico e quindi l'individuo non può mettere becco, e questa è una gran cosa, altrimenti tutti i saccenti nettoniani lesi sarebbero già andati a fare le previsioni sulla vita e sulla morte. Diciamo che comunque Marte porta un sovraccarico di energia e sul sole cuore, a volte, se una persona ha già delle problematiche, deve fare attenzione, oppure Marte come sistema muscolo-scheletrico, uno strappo muscolare, vado in palestra, mi sento molto forte, perché anche questo è un passaggio negativo di Marte, non soltanto ti togli a volte l'energia, a volte te ne da troppa, cerchi di strafare e ti fai male. Quindi la lezione da imparare non è mai razionale, non è mai ragionata, succederanno delle cose, nel mentre in cui accadono quelle cose, se sappiamo che stiamo lavorando con questo archetipo, gli si dà un significato diverso, le si carica simbolicamente come un rituale, come una prova, e le si vive per quello che sono. Quindi il transito di Marte, di Mercurio, di tutti i pianeti, non sono situazioni evitabili, non è che parti e vai in America per evitare il transito di Marte o ti chiudi in casa, perché magari cadresti per le scale. Ma è importante andare incontro al Dio Marte in questo momento e affrontare le varie conflittualità che ci sono. Quindi se ho un momento in cui c'è parecchia tensione dentro di me, adesso che ho Marte, anche se è contrario, sicuramente la scaricherò in malo modo, ma è sempre meglio buttare fuori. Tutto ciò che non si rompe fuori, si rompe dentro. E quindi forse è meglio litigare brutalmente con il mio datore di lavoro, piuttosto che preparare il mio stomaco con una gastrite, perché comunque Marte parla anche di queste cose, i succhi gastrici sono l'aspetto aggressivo, così come i denti, così come i muscoli. Quindi c'è sempre una lezione da apprendere in ogni transito, ma pretendere che venga descritto dettagliatamente, beh, questo è un disagio per persone che hanno bisogno di una psichiatra, non di un astrologo. Quindi quello che conta è sapere che si sta entrando in questo mood. I dettagli sono assolutamente rilevanti, ma quando il soggetto capisce quello che sta succedendo, collega a lui tutto il discorso fatto con Marte all'archetipo e ne trae comunque un beneficio. Per cui, occhi aperti nei confronti di Marte, Marte è uno stratega, era il dio della guerra, quindi non si sa mai esattamente quando attacca. Io sto molto largo, diciamo comunque che è entrato in leone, quindi Toro e Scorpione per un mesetto circa sono ben bersagliati. Per cui, occhio alla penna, come si dice. Grazie per l'ascolto.